I ragazzi popolari da Cilia hanno accumulato un pochino tutto quello che c'era di marcio in giro e l'hanno chiuso lì dentro. Quindi c'erano persone che non avevano casa come noi, però c'era anche gente che era riuscita dal carcere, chi aveva occupato anche quelle. Quindi ci siamo trovati in delle circostanze belle e forti, soprattutto i primi tempi e diciamo che per farti in strada devi lottare parecchio. Qua è successo di tutto. Ricordo questo palazzo, uno ha ammazzato la madre, che si spara tra amici, portellate. Però dai, ce la siamo cavata. Non nego che per lungo tempo io non sono stato ragazzo tranquillo. Avevo le mani facili e lottavo tutti i giorni perché comunque l'ambiente ti portava a questo. Non c'erano miti, c'erano persone che vedevi tutti i giorni e che facevano cose che non erano quelle giuste. Quindi cresci un po' con l'idea se forse è giusto fare quello che vedi. Grazie. Grazie.